C'è un calendario fitto di appuntamenti per l'associazione sportiva Orizzonte Gela e per preparare al meglio gli atleti il Club Vela offre ospitalità. E quanto sancito questa mattina? I ragazzi si alleneranno nella struttura che sorge sul lungomare Federico II di Svevia. Saranno impegnati nel tennis tavolo e nel rugby, due discipline che saranno presenti per la prima volta ai giochi nazionali del 2017. La martedì noi inizieremo a fare le nostre attività nelle strutture del Club Vela in diversi sport. Questa è una boccata d'ossigeno per l'associazione Orizzonte che permette ai ragazzi nostri di poter usufruire di spazi per migliorare le loro abilità psicofisiche e soprattutto quel progetto educativo e abilitativo di Special Olympics che vuole i ragazzi con disabilità intellettiva inseriti bene nella nostra società. E questa è un'opportunità che ci permette di sviluppare diversi sport tra cui alcuni nuovi come il rugby e il tennis tavolo che noi qui possiamo esercitare nel pomeriggio di ogni giorno. Un bel connubio quello sancito questa mattina, Orizzonte e Club Vela assieme. Abbiamo stipulato un protocollo di intesa e siamo orgogliosi di poterli essere utili per l'attività sportiva che essi intraprendono. Per noi è un punto d'onore e d'orgoglio dare la possibilità a questi ragazzi che hanno difficoltà anche nel trovare strutture che hanno difficoltà nel trovare occasioni per potersi regolarmente allenare. Quindi quando Natale Salucci mi ha proposto questo tutti del direttivo siamo stati felici di accontentarli. Vorrei dire solo una cosa, questi ragazzi sono eccezionali. La città di Gela non deve dimenticarli. Ci danno lustro e onore in tutte le manifestazioni nazionali e internazionali. Questi sono i figli pregiati di questa città e con tutti i problemi che Gela ha dovrebbe veramente risaltare l'attività e la grande passione soprattutto dei genitori che soffrono di mancanza molto spesso di attrezzature o di luoghi dove riunirsi per esplicare queste attività. Le barriere architettone vanno superate però hanno bisogno forse più affetto, più presenza, più colore dei parenti e degli amici. Io dico, questo ragazzo che ha nome e cognome mio mi porta a inorgoglirmi, cioè mi porta a dire guarda in famiglia che ci abbiamo. Spero, spero che altri, altri abbiano pure questa convinzione che è fondamentale per me.